cari amici di exclusive ciao a tutti ben ritrovati al nostro appuntamento occhi negli occhi la rubrica che abbiamo ideato per cercare di capire carpire attraverso gli occhi degli artisti il loro sentire e il loro modo di interpretare la vita cercando di essere vicino a un periodo a un tempo che ci sembra lontano ma in realtà attraverso i loro occhi ci viene molto vicino oggi vi presentiamo gli occhi di renato guttuso occhi intensissimi di un pittore siciliano nato a bagheria il 26 dicembre 1911 e che qui si autoritrae all'età di circa 28 anni 28 anni 29 a seconda del fatto che nasce il 26 dicembre la famiglia lo registra il 2 di gennaio quindi un po come tutti i capricorni che nascono vicino a natale gli tocca un po questa sorte e ve lo dico per esperienza e allora parliamo di un di un temperamento saturnino a tutti gli effetti di un capricorno veramente pieno di energia terragno così come era lui un uomo che nasce in una famiglia da un padre aggrimentore da un padre però che aveva anche un talento in pittura e che in un qualche modo gli dà una prima forma artistica una prima forma di pensiero al quale lui si avvicina anche attraverso l'opera di domenico quattro ciocchi che era invece un artista di siciliano che aveva modo di poter vedere a vent'anni muove verso roma e vede l'opera di altri artisti siciliani in grandi esposizioni e già a trent'anni si fa un suo parere un suo sentire un uomo forte di pensiero libero di pensiero e soprattutto legato molto alla vita sociale negli anni abbraccerà il partito comunista sarà eletto per due volte senatore di questo partito e quindi il suo figurativismo i suoi manifesti il suo modo di rappresentare una realtà saranno veramente importanti vive la guerra vivi gli anni di un movimento liberale una forma di realismo che traspone in pittura negli anni 40 forse la sua opera più importante il crocifisso dove l'artista dice che nell'espressione del dolore nella sofferenza del cristo lui rivede l'espressione la sofferenza dell'umanità ma per tornare al nostro autoritratto che arriva come donazione dell'artista negli anni 80 vogliamo ricordare che sono proprio gli anni in cui aderisce a un movimento la corrente e in questo in questo momento ama dare forza espressione al suo pensiero che è sempre legato alla sua sicilia è sempre legato a questa terra di profumi di aromi e di questa architettura meravigliosa che è bagheria il ritratto è un olio su tela i colori questa giacchettina verde questa camicetta gialla un po sbottonata questo sfondo arancia un po i colori profumi della sicilia ma sono colori complementari che danno veramente forza a questi occhi intensi scuri assolutamente siculi di questo straordinario pittore che è Renato Guttuso che possiamo ammirare nelle sale recentemente riallestite delle gallerie degli uffizi e che sicuramente farà parte del nuovo allestimento delle sale degli autoritratti ex corridoio vasariano che abbiamo potuto visitare negli anni passati con questo io vi saluto vi aspetto per i prossimi appuntamenti manteniamoci occhi negli occhi e non perdiamo le emozioni della vita ciao a presto